Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti. A Pescara, con inizio alle ore 18.30, sarà celebrata la solenne Messa Crismale, presieduta da sua eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti e concelebrata da tutti i presbiteri dell'Arcidiocesi di Pescara Penne. Tutti, scrive Monsignor Valentinetti in una lettera ai presbiteri, diaconi, religiosi e religiose, membri del consiglio pastorale diocesano, responsabili di gruppi, associazioni, movimenti, insegnanti di religione cattolica dell'Arcidiocesi di Pescara Penne, tutti si sentano convocati a prendere parte a questa liturgia così importante e significativa per la vita della nostra Chiesa. Sarà un momento, aggiunge, di forte ed intensa comunione ecclesiale, durante il quale accoglieremo ancora una volta i doni di Dio che ci confermeranno e faranno crescere nel suo amore. L'Arcivescovo ricorda inoltre che per quanto riguarda le celebrazioni della Settimana Santa, c'è la raccomandazione da parte sua di rileggere le indicazioni già date a suo tempo e in modo particolare, per quanto riguarda le parrocchie di Pescara, nel giorno del venerdì santo di non moltiplicare le processioni del Cristo morto, ma partecipare all'unica processione cittadina. A questa processione partecipino, scrive Monsignor Valentinetti, anche le rappresentanze di gruppi, associazioni e movimenti presenti nella città di Pescara. L'assessorato alle politiche sociali ha pubblicato l'avviso Nido Anch'io, finanziato con un milione e mezzo di euro, risorse statali del Fondo per le politiche della famiglia per l'annualità 2012, con le quali si va avanti con le azioni che servono a far sviluppare i servizi socioeducativi per la prima infanzia. L'avviso serve a far attivare nuovi posti e a migliorare qualitativamente l'offerta, sostenendo i costi di gestione. E' morto il signor Amedeo Rossi, papà di Don Amadeo Rossi, vicario parrocchiale nella Biata Vergine Maria, madre della Chiesa in Montesilvano. Ne dà notizia l'ufficio per le comunicazioni sociali dell'Arcidiocese di Pescarapegna. Si va verso un patto con i sindacati per il trasporto pubblico abruzzese, che guarderà non solo alle aggregazioni societarie, ma anche ad un aumento dei livelli di produttività. L'anticipazione è del presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Gianni Chiodi, intervenuto alla presentazione dei 19 nuovi mezzi Gran Turismo dell'ARPA e del biglietto elettronico gestito con una piattaforma per i telefonini, che si chiama MyCicero, con la quale acquistare i biglietti, pagare, ottenere informazioni su orari, viaggi, parcheggi e numero di cambi. Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello della Regione Abruzzo contro i due provvedimenti cautelari che erano stati emessi dal Tribunale amministrativo regionale verso i decreti del commissario sulla rimodulazione dei posti retto e sull'applicazione della revisione della spesa al budget delle cliniche private per le prestazioni ospedaliere. I due decreti erano stati impugnati dalle cliniche private davanti al TAR, che ne aveva sospeso gli effetti. La notizia è stata diffusa dallo stesso commissario, dunque lo ripetiamo, ha accolto l'appello della Regione Abruzzo da parte del Consiglio di Stato contro i due provvedimenti cautelari che riguardavano la rimodulazione dei posti retto e la revisione della spesa rispetto al budget delle cliniche private. E' importante essere presenti in ogni luogo dove vivono persone con malattie reumatiche per cercare di dare risposte che spesso devono essere ritagliate sulla realtà locale. Lo afferma Antonella Celano, presidente di APMAR. Con questo obiettivo annunciamo, ha aggiunto l'apertura della sezione APMAR Abruzzo, che sarà presentato ufficialmente mercoledì 27 marzo ed è un'associazione che si occupa di malattie reumatiche. 348 milioni di euro in meno rispetto al 2011, con una crescita esponenziale dello spread, cioè della differenza, che divide ormai l'andamento delle esportazioni regionali dalla media nazionale e segnali di affanno sempre più gravi che provengono dall'area delle due ruote. Si chiude con un dato negativo, poco meno di un milione di euro di perdite al giorno, il 2012 dell'export per le imprese che hanno sede in Abruzzo. Lo rivela un'indagine condotta per la Confederazione Nazionale dell'Artigianato della Regione Abruzzo da Aldo Ronci. Un mese a misura di donna, quello che si aprirà a partire dal primo aprile in 109 ospedali italiani, tra cui lo Spirito Santo di Pescara. Si potranno effettuare esami strumentali, visite gratuite ed incontri formativi per la cura e prevenzione dell'osteoporosi, progressiva degenerazione, che colpisce soprattutto le donne in menopausa. Secondo studi recenti, un'italiana su tre dopo i 50 anni comincia ad avere le ossa più fragili. Le sale operatorie del blocco chirurgico dell'ospedale di Chieti saranno interessate nei prossimi giorni da una serie di lavori, che porteranno ad una provvisoria riorganizzazione delle attività chirurgiche. Saranno comunque garantiti gli interventi in emergenza-urgenza, subiranno invece una riduzione le attività programmate. I lavori riguarderanno, in particolare, quattro sale operatorie al nono livello del Santissima Annunziata. La politica ora. Entro il prossimo 15 aprile, il Consiglio regionale d'Abruzzo dovrà indicare i tre grandi elettori, che parteciperanno all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. La data è stata concordata stamattina a Roma, nell'Assemblea plenaria della Conferenza delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Provincie Autonome, alla quale ha preso parte anche il Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Nazario Pagano. E' finito con l'elezione di Claudio Bellini, a segretario regionale della FIBA, CISL dell'Abruzzo e del Molise, e del segretario aggiunto Mario Valerio, il primo congresso della CISL che unifica le due regioni. E' importante costruire le fondamenta di un sindacato più forte e più efficace, per garantire una migliore tutela ai lavoratori. Questo accorpamento ha l'intento di sviluppare un'azione sindacale concreta nelle realtà locali, nei processi di programmazione e di sviluppo, ha affermato Bellini. I finanzieri del GICO dell'Aquila hanno confiscato beni per 15 milioni di euro a carico di Tonino Paolo Savignano, che nel 2009 aveva patteggiato quattro anni e mezzo per associazione a delinquere finalizzata la bancarotta fraudolenta e riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Savignano era il capo di una banda smantellata nel 2006 durante l'operazione Rubicone, che rilevava aziende in crisi da sfruttare prima di portarli al fallimento per poi trarne profitti illeciti. Suscita dubbi e polemiche a Montesilvano il progetto Arrow Bio, che la giunta comunale guidata dal sindaco Attilio Di Mattia sta portando avanti. In un convegno organizzato dalle associazioni Democrazia e Libertà, Partecipazione Popolare e Cantiere per l'Alternativa, sono stati sollevati da vari esperti dubbi sui costi e la fattibilità del progetto che riguarda i rifiuti. Ci sono piovuti addosso delle scelte amministrative preconfezionate, che lasciano parecchi dubbi, ha detto Francesco Maragno, ex candidato sindaco. Esiste in regione Abruzzo un blocco istituzionale e politico sia in consiglio che in giunta che non ha precedenti nei 40 anni di storia delle regioni. Lo sostiene il capogruppo del PD, Camillo D'Alessandro, secondo cui ad oggi ci sono 258 progetti di legge giacenti nei cassetti che non sono mai arrivati in commissione o che vengono continuamente rinviati. Prima di chiudere ricordiamo che mercoledì 27 marzo, quindi dopodomani mercoledì santo, presso il palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II, in Viale Aldomoro, a Pescara, alle 18.30 Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne, presiederà la solenne messa a Crismale, concelebrata da tutti i presbiteri dell'Arcidiocesi. E siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e Provincia si prevede pioggia con temperature da 7 a 8 gradi, e venti da moderati a forti. Domani si prevede cielo coperto con temperature da 5,5 a 10,5 gradi e venti da deboli a moderati. Il mare è previsto da mosso, molto mosso, sia stasera che domani. E con questo è tutto, da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia, e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz, e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, dove potete ascoltarci in diretta, ma potete anche ascoltare in podcast alcune delle nostre trasmissioni, tra cui le edizioni del nostro notiziario, ed è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti!